Salve a tutti in questo video vediamo come utilizzare la selezione per colore di Gimp quindi lo strumento che ci permette di selezionare un soggetto o qualcosa in base al suo colore quindi proviamo a selezionare questo fiore lo strumento selezione per colore è questo qua vedete in alto c'è scritto clicchiamo e basta fare un clic sul colore ecco qua allora possiamo cliccare su più parti del fiore ma lui ogni volta riparte da capo invece a noi serve aggiungere quindi innanzitutto dobbiamo capire che il valore di soglia ci permette di selezionare più o meno colori contigui ecco qua aumentandolo troppo ad esempio vedete che con un clic verranno selezionate troppe cose ecco qua quindi andiamo a ridurlo a non lo so 27 ad esempio ecco qua e quindi piuttosto andiamo a fare clic più volte ma utilizzando il tasto shift che in ambito selezione vuol dire aggiungi alla selezione ecco vedete quando premo il tasto shift appare questo più mentre il tasto ctrl meno ovvero togli dalla selezione quindi cominciamo shift tasto più e continuiamo a cliccare qua su tutti i vari colori per aggiungere l'importante è aggiungere tutta la parte del fiore non è importante se poi vengono selezionate come potete vedere aree al di fuori del fiore quindi mi assicuro di aver selezionato praticamente tutto questo puntino qui ok allora no troppo troppo modifica a nulla ok in questo caso va bene allora abbiamo selezionato i bordi questa parte manca questa parte manca perché ha un colore diverso questa parte qui e poi sono stati aggiunti questi adesso utilizzeremo degli strumenti aggiuntivi diversi di selezione che ci aiuteranno a rimuovere queste parti e ad aggiungere questa quindi utilizzo questo lo strumento selezione a mano libera e vado ad utilizzare shift di nuovo e vado a fare una selezione qua per selezionare tutto quanto invio e adesso abbiamo aggiunto anche questo alla selezione shift di nuovo e seleziono questo puntino invio ecco fatto abbiamo aggiunto tutto quello che c'era da aggiungere nel fiore adesso andiamo a togliere questa roba qua quindi ctrl tasto meno e andiamo a creare una selezione che vada a includere tutti questi colori selezionati per sbaglio facciamo prima questa invio c'è rimasto questo pezzettino e questi e anche questo ovviamente ecco fatto invio perfetto come avete appena potuto vedere adesso è stato selezionato correttamente tutto quanto il fiore e abbiamo deselezionato tutto quello che per sbaglio è stato selezionato purtroppo quando andate a selezionare un colore presente spesso in tutta l'immagine risulta difficile quindi questi strumenti vi torneranno sicuramente utili per andare a migliorare la selezione poi allora cliccando qua potete vedere che si può anche selezionare per altri tipi di categorie come rosso verde blu alfa tonalità saturazione ad esempio se clicco su composito una volta qua succede questo se clicco su tonalità qua vedete la selezione è diversa anzi in questo caso la tonalità ci avrebbe risolto velocemente perché guardate ha già selezionato praticamente tutto il fiore questa parte è un po' troppa però magari abbassando un po' la soglia e riprovando avremmo avuto risultati migliori ancora è uguale abbassiamo ancora la soglia ecco qua quindi shift sì diciamo che in questo caso avremmo selezionato più colori in una volta sola però c'è sempre questo burdino qua che viene selezionato e poi andrebbe tolto con la selezione comunque potete sperimentare anche altri sistemi io rimango con composito ricordatevi la soglia quindi questo era la selezione per colore un saluto a tutti grazie grazie